Il primo febbraio inizierà una serie di eventi che vorranno indagare la figura di Napoleone Bonaparte, non solo come uomo politico, come condottiero, ma anche nella sua figura privata. Sì, noi vogliamo che questa figura sia ricordata, una figura non solo internazionale, ma che ha avuto un ruolo importantissimo in Italia, ha portato le idee di democrazia e di libertà e poi soprattutto nella nostra zona, perché si attribuiscono le origini della sua famiglia alla zona della Lunigiana e di Sarzana e quindi penso che sia un personaggio importante da ricordare. Quale sarà il primo evento? Il primo evento sarà tenuto dal professor Giuseppe Benelli, che è il presidente dell'Accademia Capellini e che parlerà appunto di Napoleone e la Lunigiana. Lui è un esperto della zona, quindi potrà molto bene illustrare questa figura particolare di Napoleone nell'ambientazione della nostra zona, della nostra regione. Vogliamo ricordare allora dove e quando e i prossimi eventi? Sì, sarà un ciclo piuttosto lungo di eventi. Per il momento ne abbiamo programmati sei, ma continueremo anche a maggio, due al mese praticamente, e continueremo anche a maggio, poi riprenderemo a settembre, dopo la pausa estiva naturalmente. E il secondo incontro sarà il 15 febbraio, sempre alla biblioteca del liceo classico Costa, alle ore 17, come il primo evento, quindi febbraio al liceo Costa, e sarò io a parlare delle donne della famiglia Bonaparte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.